Già da diverse settimane con alcuni ragazzi di Messina, tutti volontari, tra cui anche i ragazzi di Messina Attiva, abbiamo organizzato queste raccolte. Secondo noi è importante che vengano riuniti i messinesi volenterosi per dare il buon esempio. Come è stato fatto già sulle spiagge di Torrefaro di Ganzirri, abbiamo deciso, visto la bella giornata, di fare un po' di pulizia anche qua in questa parte di spiaggia qui a Trocadero. Visto che ci sarà una prossima riqualifica da parte dell'amministrazione, abbiamo dato il nostro contributo da buoni cittadini e quindi abbiamo pulito un po' di spiaggia. Cosa avete trovato? Abbiamo trovato un po' di tutto, principalmente plastica, c'è tanta sporcizia, lattine, in realtà ci sono anche dei grossi rifiuti, copertoni e quant'altro. Infatti faremo comunque su quelli una segnalazione direttamente a Messina Servizi, con cui stiamo anche collaborando in un certo qual modo, perché comunque si sono resi disponibili a raccogliere. Quindi noi gli indichiamo il giorno e il luogo di raccolta e poi loro vengono a ritirare il tutto. Per cui devo dire che sotto questo punto di vista l'amministrazione ci sta dando una mano. Ma quindi non è l'unica iniziativa che avete organizzato? No, sono già diversi mesi e è già da novembre che stiamo facendo un po' questa attività, come dicevo, da semplici volontari. Diciamo che anche la stampa ci sta aiutando, dando appunto eco a queste iniziative, pubblicando quelle che sono le giornate di raccolta. Siamo partiti da due o tre persone, nelle ultime raccolte arriviamo a 20-30 volontari. L'obiettivo è quello di essere centinaia se non migliaia.